Nella quattordicesima giornata del massimo campionato di hockey su ghiaccio il Bolzano ospita l'Allega e i padroni di casa secondi in classifica cercano punti preziosi in ottica Final Four di Coppa Italia, mentre gli agguardini devono assolutamente migliorare una classifica non certo felice. Le civette hanno vinto il match di andata mettendo fine in quell'occasione all'imbattibilità stagionale dei Foxes. Tra i biancorossi non gioca Rhett Gordon per infortunio, mentre sull'altro fronte l'indisponibile Adam Dennis è sostituito da Davide Fontanive, preferito all'ultimo arrivo Michel Favre. Dopo una fase di studio la prima chance è costruita dagli ospiti con Darrell Scoville che impegna Matt Zaba dalla media distanza. La risposta al trottesine è comunque pronta e veemente azione condotta da Colton Freter che smarca la perfezione Stefan Zisser per il vantaggio. Arriva al 7.34 il gol dei Foxes che coincide con la terza rete stagionale da parte dell'attaccante Stefan Zisser. Ancora pericoloso il Bolzano a metà tempo azione condotta nuovamente da Zisser che smarca in questa circostanza Bernard sotto porta Fontanive si oppone. Prima frazione che si chiude con il minimo vantaggio da parte di Egger e compagni. Il secondo tempo si apre con un'incorsione di Mazzolini il quale impegna Fontanive e poi Susa non è preciso sulla ribattuta. La pressione dei primi minuti porta comunque i suoi frutti. Disco conquistato dietro la gabbia da Mazzolini che aggira la porta e deposita il pack in fondo al sacco. L'attaccante statunitense si sblocca dopo un mese di digiuno dalla gol e sigla al 24.15 il raddoppio bianco-rosso. Sull'altra fronte è Vince Rocco che prova a riportare in partita i suoi ma Zaba è attentissimo e riesce a bloccare. Subito dopo i Foxes passano ancora a disco buono per Colton Fretter che non lascia scampo a Fontanive con un diagonale preciso raso ghiaccio. Per Fretter si tratta della settima realizzazione stagionale con la maglia del Bolzano. Nuova chance sulle stecche di casa Dorigati a spazio e serve Irman il cui tiro viene respinto dal portiere avversario. Prima della seconda sirena arriva comunque anche il quarto gol per la formazione del capoluogo a segno con Marco Insam che raccoglie e conclude dopo il passaggio di Mikael Etinen. Tocco di rovescio del ventunenne attaccante di casa che non lascia scampo a Fontanive. La seconda sirena il Bolzano è ormai in fuga 4-0 per i bianco-rossi. Anche alla ripresa del gioco i Foxes si mantengono attivi sotto porta tiro di Egger e mischia risolta in maniera vincente da Danny Irman. Ormai la sfida è ampiamente decisa e anche Irman partecipa alla festa dei bianco-rossi mettendo a segno al 45-57 la quinta realizzazione dei padroni di casa. Immediatamente dopo al 47-13 anche l'Alleghe va in gol. Tocco di Anger per Fabrizio Fontanive che non fallisce. Leggerezza difensiva dei padroni di casa che lasciano troppo spazio all'attaccante avversario. La gara comunque non si riapre Alex Egger dalla distanza. Fredda per la sesta volta in serata l'estremo difensore a Guardino. In rete dunque al 49-24 anche il capitano Bolzanino. Una trentina di secondi dopo settimo sigillo per i padroni di casa. Azione personale di Stefan Zisser. La difesa avversaria lascia fare e il numero due castiga. Gol di pregevole fattura ma incredibile il comportamento della difesa dell'Alleghe. Passano altri due minuti e la rete si gonfia ancora a discesa di Danny Irman. L'attaccante mette in mezzo un disco tra il tiro e l'assist che viene derivato in fondo al sacco dal portiere stesso. Doppietta anche per Danny Irman e Alleghe sempre più allo sbando. Esce Davide Fontanive. Entra al suo posto Michel Favre. La musica però non cambia visto che al 56-34 il Bolzano sale a quota 9. Susa in becca a Marco Insam che non perdona. Terza doppietta della serata dopo quelle di Zisser e Irman. Tocca anche a Marco Insam. A 13 secondi dal termine i Foxes vanno in doppia cifra. Bernard lascia a Valcher che mette dentro il decimo gol della serata per i padroni di casa. e conseguentemente fa calare il sipario su una gara praticamente senza storia. Lo strapotere del Bolzano infatti si ripercuote in maniera smisurata su di un Alleghe pericoloso solo in avvio e nel finale minimamente preoccupato da un risultato che assumeva con il passare dei minuti dimensioni allarmanti. Una buona iniezione di fiducia in ogni caso per i Foxes alla vigilia del derby con il Val Pusteria. Grazie a tutti.